In questo video vedremo dove scaricare il workspace contenente i progetti di esempio Getting Started with Embed OS in Eclipse e come importare questo workspace, i progetti contenuti all'interno di questo workspace in Eclipse per poterli compilare secondo la toolchain che abbiamo da poco installato. Andiamo quindi sul sito www.perlatecnica.it e nella sezione Tutorials andiamo sul primo articolo Toolchain offline per la scheda microcontrollore STM32 Nucleo F401 RE ed Embed OS e scorrendo l'articolo andiamo al link che ci porta all'archivio che dovremo scaricare Terminato il download andiamo nella cartella dove è stato scaricato l'archivio e con un doppio clic lo apriamo. Il modo più semplice per decomprimere è quello di trascinare la cartella contenuta al suo interno Direttamente sul disco C Ok, quindi Completata l'operazione di estrazione All'interno della cartella troveremo quelli che sono i progetti che dovremmo importare all'interno di Eclipse Lanciamo quindi Eclipse Andiamo in Embed Studio Eclipse E lanciamo l'applicazione Poiché l'archivio che abbiamo scaricato è già rilasciato come workspace Sarà sufficiente andare su Switch workspace Other E andare a puntare alla cartella che abbiamo appena decompresso Quindi Getting Started with Nucleo F401 RE ed Embed OS Launch Eclipse Eclipse viene riavviato E troveremo tutti i progetti contenuti all'interno del workspace Proviamo quindi ad aprire e compilare il primo progetto Quello che fa Blincare un LED Ossia farlo lampeggiare Con un doppio clic lo apriamo Lo evidenziamo E clicchiamo sul martello E' importante che durante la prima compilazione Il computer sia connesso ad internet Poiché durante la prima compilazione Eclipse Che è stato appena installato Andrà a scaricarsi i pacchetti Python Di cui ha bisogno e che non sono ancora presenti La compilazione è andata a buon fine Il file binario Si trova nella cartella Build Ed ha lo stesso nome del progetto A questo punto Colleghiamo la scheda Nucleo Via USB al computer Questa verrà vista come un drive esterno Con nome Nucleo Prendiamo il file binario Lo copiamo E lo andiamo a incollare All'interno di questo drive Una volta scaricato il codice Vedremo sulla Nucleo Il LED lampeggiare Prendiamo la scheda Nucleo